Linea. L'energia. Prende forma. Intuitiva. Essenziale. Connessa. A casa puoi attivare tutto con un gesto. I controlli tutto anche da remoto. Linea è disponibile in tre finiture Total Look. L'allineamento dei tasti è sempre perfetto, grazie alla tecnologia brevettata in line. La nuova serie Linea, perfetta per la tua casa. Bimar. Energia positiva.